La Tigri Rugby Bari ha il suo nuovo direttore sportivo Mauro Bergamasco, già atleta della Nazionale Maschile di Rugby, con la quale ha disputato 106 gare e entrato a far parte dello staff della società sportiva barese. La firma già a fine marzo scorso, quando la SD ha annunciato l'accordo triennale con l'ex nazionale, vincitore di due scudetti con Benetton Treviso e due campionati francesi, 106 volte internazionale per l'Italia dal 98 al 2015. Cinque edizioni della Coppa del Mondo di Rugby, Bergamasco aiuterà e supporterà tutto lo staff tecnico della squadra barese. È un progetto che definirei trasversale e globale all'interno di una realtà già forte delle persone che collaborano all'interno e che si prodigono tutti i giorni per sviluppare il club delle Tigri Rugby Bari. La volontà è quella di far incrociare due progetti fondamentali, uno che parte dal basso, quindi legato alla crescita dell'individuo, quindi dei bambini, delle bambine o dei ragazzi e ragazze che approcciano a questo sport o che magari anche per la prima volta vengono a scoprire questa nuova realtà, ma anche un progetto che parte dal lato, quindi andando a specializzare in qualche maniera quelle che possono essere le abilità, le capacità o comunque le risorse dei giocatori della prima squadra, andando poi a destrutturare questa filosofia che verrà un po' alla volta ridefinita e portata poi alle categorie inferiori per una sorta di continuità anche intellettuale oltre che tecnico e fisica. Grazie